si abbassa il passaggio a livello il passaggio a livello chiuso verso Novara, verso Bellinzona si vede il portale sud della Galleria Luino il casello il passaggio a livello chiuso è giovedì mattina siamo a marzo verso Bellinzona verso Novara siamo a Luino al passaggio a livello è giovedì siamo a marzo ore 10.08 vibra il binario a go no sì io quando o lo ma è giù ho mi non è è è Grazie. Tabelle di coda. Il treno merci sta entrando nella galleria Luino. Si rialza al passaggio a livello. Verso Bellinzona, verso Novara. È appena passato un treno merci di DB Cargo proveniente da Gallarate.